Graduale riapertura, primo passo verso un lento ritorno alla normalità, ma per il professore Giovanni Rezza, direttore generale prevenzione della salute, è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie, adottando inoltre comportamenti individuali rigorosi e rispettando le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto della mascherina. L'incerezza di casi di covid-19 nel nostro paese è in leggera e graduale diminuzione e si fissa intorno a 180 per 100 mila abitanti. Anche l'RT è in lieve calo ed è di circa 0,85, quindi di poco al di sotto dell'unità. Purtroppo invece resta elevato il carico sia sugli ospedali che sulle terapie intensive. Infatti il tasso di occupazione delle terapie intensive è di circa il 39 per cento, quindi ancora ben superiore alla soglia critica che è fissata intorno al 30 per cento. Data la situazione epidemiologica e la possibilità di un'iniziale graduale riapertura di molte attività è importante che i cittadini rispettino delle regole di comportamento individuale estremamente prudenti. I dati del resto sono inequivocabili. L'RT medio del Molise su 14 giorni è 0,92, quello dell'ultima settimana 0,79. Il report del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità evidenzia altresì che è la provincia di Campobasso l'area più colpita. Dal 26 aprile il Molise tornerà in zona gialla con la riapertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo ma solo nelle zone a basso contagio e solo all'aperto. A Campobasso gli esercenti sono in fibrillazione al lavoro per allestire Deors. Certo che non approfitteremo, cercheremo, vediamo se è comune da qualche deroga per lo spazio pubblico esterno, metteremo qualche tavolino in più, qualche sedia. Certamente facendo sempre, purtroppo la cosa che mi rammarico, che tutte le persone che entrano io devo stare a dire sempre la stessa cosa, sempre. Non pegliate la pizza e uscite fuori o portatele a casa. Dovete rispettare le regole. Devo stare sempre a ricontrare questa cosa. Ogni persona, qualche d'uno in autonomia va via tutto. Certo questa è una possibilità buona in quanto possiamo spaziare all'esterno, mettiamo dei piccoli tavolini, si siedano, ognuno sta al suo posto. Certo è sempre un'opportunità di più. Se calcoliamo che anche le scuole riaprono tutte, quindi sarà più a flusso di persone. Speriamo che, dobbiamo solo sperare che poi con questa riapertura le cose non peggioreranno. Quindi se poi le cose peggioreranno non so quando si riaprirà un'altra volta. È quello che succederà. L'ampia diffusione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità incute timore nella popolazione. Per questo non tutti sono ottimisti. Tra le categorie più penalizzate c'è quella degli ambulanti allo estremo delle forze. Noi commercianti la stiamo vivendo malissima, ma più male di questa non può esistere. È una cosa terribile. Zona arancio, zona gialla, stiamo rovinati. È un mercato di campo a basso e guardate è tutto spento, non ci sta perché la gente oramai zona gialla, zona ro ha paura, non esce più dai mercati e noi stiamo passando i guai. Grazie. 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 Grazie.